Confermato il successo di Vibo Vintage, l'idea della Proloco per rianimare l'estate a Vibo Valencia che alla sua seconda edizione ha ribadito il successo della formula. Tra sorprese ed una massiccia partecipazione con tanta gente che nel pieno dell'estate ha invaso il centro storico della città fino a tardanotte. Due serate vissute con grande entusiasmo, dalla magica atmosfera del drive-in alla serata Total Vintage che ha visto un grande afflusso tanto nelle piazze principali della città quanto sul Corso Vittorio Emanuele dove residenti e turisti si sono mescolati in un clima spensierato prendendo d'assalto pizzeria e bara che hanno faticato a soddisfare le numerose presenze. Centro storico pieno di giovani e meno giovani, amici e famiglie pronti a godere della bella musica swing e dello rock and roll attraverso l'intrattenimento dello swing village rafforzato dalla presenza di auto e moto d'epoca che hanno animato l'intera città per poi posizionarsi in piazza davanti al municipio. Tutti soddisfatti, soprattutto gli organizzatori e la prologo che ha ideato l'evento nella convinzione che, spiegano, la socialità sia l'ingrediente indispensabile per la crescita economica e la promozione del territorio.